Bentornati amici ed amiche di Storia per le Tre Età, oggi siamo a Marrakesh, la capitale del divertimento del Marocco, proveremo ad entrare nella Medina per vedere i vari souk che ci sono all'interno, sperando che vada tutto bene. Questo sarà un video molto silenzioso perché più delle parole andranno a sovrapporsi come importanza le immagini che vedrete, che spero che siano di vostro gradimento. Jamal El Fanon, Marrakesh, grazie a Jamal. Sotto un sole che picchia a mezzogiorno, ma non è mezzogiorno, è lui. una e mezza, ecco che il Muazzin chiama i fedeli alla preghiera. Andiamo a vedere. un po' di cosa facciamo ripetere. E' 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 un po' di cosa facciamo ripetere. della medina di Marrakesh o del sud di Marrakesh, guardate e ricordate questo arco, una volta sì questo si va lungo, ho detto alle 300-400, può darsi anche di più, si va e si torna di qua per tornare, guarda è conosciuto il viale con questi... ah questo è il viale principale? con questo tessuto qua, per proteggere il centro e dal sole per fare ombra allora si può andare fino a fondo tornare, casomai uno vuole usare una via laterale e conosce la via principale con questi colori a tutti e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.